Questo artista si chiama Jesse Martin e lui ha un talento davvero unico, disegna a mano sul suo iPad delle opere artistiche che contengono altre opere al loro interno, creando così un effetto davvero incredibile. Ogni opera è connessa alla successiva attraverso un filo logico ben definito e se non si conosce dove zoomare è quasi impossibile per qualcuno riuscire a trovare le opere nascoste, lui ha detto che ci mette diversi giorni per le sue creazioni e nonostante possa sembrare un lavoro molto lungo e complicato da svolgere per lui è rilassante e terapeutico disegnare. Che voto li dai da 1 a 10?